Buonasera, allora mi sono presa una piccola deroga sull'argomento che mi era stato affidato parlando di una cosa molto frequente che probabilmente abbiamo a condividere noi oculisti e voi platea che è la sinoma dell'occhio secco dopo la chirurgia della cataratta. In attesa di nuove, nuovissime e imminenti indicazioni con il nuovo DIUS noi abbiamo un po' rivisto il concetto di occhio secco snoganandola da una questione meramente idraulica per così dire e sottolineando il fatto che poteva dare dei disturbi visivi e poteva dare anche un danno della superficie oculare. Non solo, ma che era molto spesso accompagnata da una variazione dell'osmolarità della superficie oculare e da una infiammazione. Oggi parliamo di presbiopia e in maniera molto interessante vediamo come la patologia dell'occhio secco viene a intersecarsi con quella di cui parliamo oggi e ancora con quella della cataratta. La prevalenza dell'occhio secco, vedete come varia dai 5 al 34% delle persone, quindi una bella fetta e noi sappiamo che aumenta moltissimo tra le donne e appunto in età avanzata. Perché viene un occhio secco dopo la cataratta e quando viene? Non c'è niente di specifico, non c'è nemmeno tantissima letteratura, vedete che più o meno si parla un 10% dei casi che hanno sintomi di occhio secco dopo la cataratta, ma probabilmente è il dato assolutamente sottostimato e questo è dovuto a tre grandi problemi che noi abbiamo. Una discrepanza tra i segni e i sintomi, il paziente si lamenta un sacco dopo la chirurgia della cataratta, ma di obiettivo tra noi e voi non vediamo assolutamente niente, perché ci sono difficoltà a formulare una diagnosi di occhio secco e molto spesso perché il paziente ha già prima un occhio secco che quindi viene ad essere amplificato dalla chirurgia. Quindi è importantissimo prendere ovviamente una buona storia del paziente, da fare una valutazione preoperatoria alla lampada, non mirando soltanto alla cornea, ma guardando anche e soprattutto la congiuntiva e il margine delle palpebre, facendo tutte le colorazioni di cui noi abbiamo a disposizione, quindi break up time, facendo lo shirmer, anche se sapete che il valore di questo test è stato soprattutto negli ultimi anni messo un pochino da parte, guardando, andando nella diagnostica più avanzata, qual è l'altezza del menisco lacrimale con questi nuovi OCT, guardando l'osmolarità delle palpebre, facendo la topografia perché molto spesso è quella che ci dice che ci sono delle alterazioni sulla superficie e perché no, facendo fare questi test che sono molto utili, molto veloci da fare e che ci indicano quale potrà essere il decorso del nostro paziente. Ma quello che vorrei che fosse chiaro oggi è che numerosi sono i meccanismi che sono implicati nella gene di un occhio secco dopo la chirurgia della cataratta, soprattutto questi tre. Tutti noi sappiamo che i nervi corneali arrivano sulla cornea dalle 3 alle 9, quindi con andamento laterale e tutti noi capiamo come un'incisione, soprattutto io sono un chirurgo che opera in gran parte dei casi temporale, possa venire a incidere appunto queste terminazioni nervose che entrano sulla cornea. In realtà il fatto taglio temporale, occhio secco post non è mai stato confermato. È stato confermato appunto quindi non c'è una indicazione di tipo topografico che possa indicare un paziente più a rischio di sviluppare un occhio secco e quello che noi sappiamo è che c'è in ogni caso, per quanto noi ci siamo affannati a fare i tagli sempre più piccoli, sotto i 2 mm anche, c'è un danno della componente nervosa che dura almeno tre mesi dopo la chirurgia della cataratta. Non sarò a entrare assolutamente nel merito di quello che voi sapete essere il circolo vicioso dell'occhio secco, però vediamo come la componente nervosa ha un ruolo molto importante al genese dell'occhio secco, quindi un danno a questo livello è assolutamente importante. Più che la topografia sembrerebbe fosse la forma dell'incisione che ha una qualche azione, noi facciamo molto spesso un pretaglio e questo pretaglio, vedete come si vede bene a queste immagini, OCT può dare un epitelial gap che può essere responsabile dell'insorgenza di occhio secco. Per quanto ci affanniamo a fare interventi sempre più veloci, contagi sempre più piccoli, inoltre un certo grado di infiammazione è sempre presente negli occhi dopo la chirurgia della cataratta. Questo può essere dovuto all'effetto tossico di tutti i colliri che mettiamo prima, degli anestetici per esempio o anche dei colliri fatti per dilatare la pupilla e quindi l'andamento verso una chirurgia sempre più libera da gocce nei confronti dell'andamento, postoperatorio benvenga la cosiddetta less drop più che drop less, cioè con meno gocce possibili auspicabili nell'immediato futuro. Lo io dopo vi donne, però sapete che è l'unica cosa che realmente possiamo ancora fare per prevenire le endoftalmite e quindi va fatta, ma sicuramente altera il delicato equilibrio della superficie oculare e tutte le mosse che noi facciamo intraoperatorio. Un aspetto molto importante a non sottovalutare è guardare le palpebre prima della chirurgia e dopo la chirurgia della cataratta, perché molto spesso è presente una disfunzione del ghiando di meibomio che è veramente importante e il fatto di avere un occhio secco prima della chirurgia della cataratta, anche questo, vedete come tutti i valori sia del break up time che dello schirmer, come faticano a tornare, ci vogliono più di tre mesi nei valori pre chirurgia. Inoltre, particolarmente a rischio sono pazienti diabetici che sappiamo hanno una maggiore coinvolgimento della quantità e qualità del fin lacrimale, una perdita delle goblet cells e anche un impairment a livello nervoso e in questi pazienti noi dobbiamo forse, come diceva prima, avvertire il paziente, ci può essere una patologia di questo tipo auspicabile, con una risoluzione che spesso ci vale più dei tre mesi citati qua sopra. Ma insomma, quali sono le conseguenze cliniche di un occhio secco? Non sto certo a raccontare a voi che la cornea e il fin lacrimale sono importantissimi, che rappresentano due terzi del potere ottico dell'occhio e che quindi è una superficie non regolare, dà un sacco di problemi. Però, anche se questo può sembrare l'appalistiano, solo ultimamente è venuto fuori per esempio un articolo come questo, del settembre scorso, in cui per la prima volta è stato visto come un occhio secco può dare una diminuita capacità e velocità di lettura. E per quanto è una cosa che tutti noi vediamo, questo è il primo report di tipo bibliografico di una cosa del genere. Non solo, ma voi sapete come una cattiva superficie può portare ad una diminuzione della sensibilità al contrasto. La bellissima lezione di stamattina ci ha messo in evidenza come sia importante questo fattore che di per sé diminuisce aumentando il numero degli anni e noi vediamo come la sensibilità al contrasto decresce in maniera esponenziale, soprattutto negli occhi secchi che hanno un qualche danno epiteliale. Perché è importante tutto questo? Perché le nostre biometrie probabilmente, come diceva Giacomo prima, non saranno così accurate anche perché la superficie oculare non è perfetta. Quindi le biometrie molto spesso dipendono anche dallo stato della nostra superficie oculare e vediamo come il fatto dell'occhio secco possa influire come una delle principali cause di non soddisfazione usando per esempio le IOL premium. Quindi abbiamo bisogno assolutamente di una strategia riconoscendo i pazienti a rischio, vi ho detto, diabetici, occhi secchi preesistenti e cercando di ottimizzare la superficie oculare prima della chirurgia alla catarata. Quindi benissimo e assolutamente il trattamento di ogni forma di blefarite, usare lacrime artificiali, usare i corticosteroidi topici magari in fase pulsata per rimettere l'infiammazione che è sempre presente, usare appunto un plug solo raramente per quanto mi riguarda, sono convinta che devono essere usati soltanto se la superficie è scelta da qualsiasi forma di infiammazione. Possono le lacrime influire su tutto questo? Sì, questo è un lavoro che abbiamo pubblicato abbastanza recentemente, nel 2015, e ci fa vedere due gruppi di pazienti, tutti sottoposti a catarata, uno con le lacrime artificiali e uno senza. E voi vedete come tutti gli score, sia quelli dell'OSDI, quindi del test di, diciamo, salute, percezione di salute da parte del paziente, ma anche break up time e sintomatologia soggettiva, sono migliorati nel gruppo e fanno le lacrime artificiali. Quindi in conclusione, anche se siamo molto contenti della chirurgia così avanzata e la catarata sentirete poi dopo, tuttavia esiste un bel pool di pazienti che non sono contenti e che voi probabilmente vedete prima di noi, dopo la chirurgia e la catarata, a volte arrivando quasi a inficiare che l'intervento sia stato fatto bene, voi dovete sapere che esiste una sindrome da discomfort post catarata che deve essere trattata molto spesso prima, ma sicuramente dopo, probabilmente nel prossimo futuro avremo anche delle ulteriori armi a nostra disposizione per questo importante sottovalutato problema. Io vi ringrazio notte l'attenzione. Grazie.